Presidente Lapini, lavoro e salute devono coesistere? Sì, lo slogan recita salute e lavoro possono convivere e mi piace l'eccezione che lei ha fatto, devono convivere, perché senza il lavoro la salute va via e si perde tutto quello che in questi anni abbiamo costruito per la prosperità e il benessere del nostro territorio. Noi con questa manifestazione, con questo filo in interrotto di imprenditori, ci stanno venendo delle richieste da ogni dove, tutti dicono di qualsiasi professionalità, ma possiamo intervenire, possiamo intervenire, persino i consumatori, intendiamo portare alla luce i volti e le storie di tutti questi nostri imprenditori che pagano uno scotto incredibile, e pagano il costo più alto di questa pandemia. Una situazione, per certi versi, surreale, che non si sa quando potrà finire. Ecco, voi commercianti, cosa dite? Ma io l'ho detto altre volte, il nostro destino è scandito dai colori che vanno dal giallo passando per l'arancione arrivando al rosso, che scandiscono i nostri tempi e il nostro modo di lavorare, senza poter programmare, senza poter fare un progetto futuro, senza assolutamente poter avere argomentazioni da portare in causa, con la consapevolezza che siamo un pezzo importante per tutta la nostra società, per il tessuto economico, per la nostra provincia, per la nostra città.